Abbiamo il benvenuto ad un fuoriclasse della batteria. Fuoriclasse che in questo momento a me mi serve perché mi sentivo un po' scarico, mi serve un po' di batteria. Un po' di batteria. Beh ma davvero dobbiamo dire che Alessio Guadagnoli, intanto un applauso fortissimo per te, è un grande fenomeno. Lui studia la batteria, praticamente la fa arrivare però all'ennesima potenza, cioè va oltre quelli che sono gli studi normali e consentiti, lui riesce a fare di più. E oggi rende omaggio in pochi minuti a Max Roche, che è proprio uno dei più grandi, a lui si sono, il papà di tutti i batteristi, a lui si sono ispirati tutti i più grandi nomi, tra quelli di casa nostra, Tullio De Piscopo. E tu dobbiamo dire che sei proprio su quel livello lì, è di Max Roche. Dai, allora, sei pronto? Alessio Guadagnoli, è un fenomeno questo ragazzo, un fenomeno. Allora sì, dovrebbe partire, ecco qui anche il video di Max Roche, benissimo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.